a mosca in piazza della pompa c'è una piccola piazza vicino al monastero della natività chiamata della pompa o semplicemente pompa ogni domenica lì c'è mercato vi brulicano come gamberi nella rete centinaia di tulup di cappotti di berretti di pelo di cilindri si sente un canto a più voci di uccelli che fa pensare alla primavera se splende il sole e nel cielo non ci sono nuvole il canto e l'odore del fieno si sentono più intensamente e questo richiamo alla primavera eccita il pensiero lo trasporta lontano una lunga fila di carri costeggia un lato della piazzetta sui carri non c'è fieno non ci sono cavoli né fave ma cartellini luccherini pettirossi allodo le merli e tordi cincellegre e fringuelli tutto ciò saltella entro gabbie rudimentali improvvisate getta occhiate invidiose ai passeri in libertà e cinguette i cardellini costano cinque copeche i luccherini sono un po più cari gli altri uccelli hanno i prezzi più svariati quanto viene una lodola il venditore stesso non conosce il prezzo della sua lodola si gratta la nuca e chiede quanto dio gli suggerisce in quel momento un rublo o tre copeche a secondo del compratore ci sono anche degli uccelli cari su una sudicia pertica e appollaiato un vecchio merlo scolorito dalla coda spelacchiata è serio grave e immobile come un generale a riposo già da tempo ha fatto una croce sulla sua libertà e già da tempo guarda con indifferenza il cielo azzurro deve essere per questa sua impassibilità che passa per un uccello grandioso non si può venderlo per meno di 40 copeche attorno agli uccelli si accalcano sguazzando nel fango studenti di cinnasio artigiani giovanotti con cappotti alla moda amatori con berretti logori fino all'inverosimile con i pantaloni rimboccati lisi come rosicchiati dai topi ai giovani agli artigiani si vendono le femmine per i maschi i giovani per adulti non se ne intendono granché di uccelli l'amatore invece non si riesce a ingannarlo lui un uccello lo distingue e lo riconosce da lontano non c'è nulla di positivo in questo uccello dice l'amatore esaminando il becco di una lodola e contandole le penne della coda ora canta è vero e con questo anch'io mi metto a cantare quando sono in compagnia no caro mio mettiti a cantare senza compagnia canta da solo se puoi e tu tirami fuori quello che se ne sta appollaiato tutto zitto dammi quel santarello quello tace di conseguenza è un furbacchione in mezzo ai carri con gli uccelli capitano anche carri con animali vivi di altro genere lì potete vedere lepri conigli ricci porcellini d'india puzzole una lepre se ne sta in disparte a masticare paglia dalla disperazione i porcellini d'india tremano di freddo e i ricci guardano incuriositi il pubblico da sotto i loro aculei ho letto da qualche parte dice un funzionario delle poste del cappotto stinto come parlando tra sé e guardando la lepre con amore ho letto che in casa di un certo scienziato un gatto un topo un falchetto e un passero mangiavano dalla stessa scodella è possibilissimo signore perché il gatto era stato picchiato e al falchetto certamente gli avevano strappato tutta la coda non c'è niente di scientifico in questo signore il mio compare aveva un gatto che scusate mangiava i cetrioli gliele aveva suonate per due settimane finché quello aveva imparato una lepre a picchiarla riesce anche ad accendere i fiammiferi di cosa vi meravigliate è semplicissimo mette in bocca un fiammifero e zac l'animale è come un uomo l'uomo diventa più intelligente a furia di bastonate e così pure l'animale tra la folla vanno su e giù delle palandrane con galli e anatre sotto il braccio gli uccelli sono tutti magri affamati i pulcini sporgono le loro teste brutte e spelacchiate e beccano qualche cosa nel fango dei ragazzini con dei piccioni scrutano le vostre facce per cercare di indovinare se siete un amatore di colombi sì signore non avete niente da dire grida qualcuno con tono irato guardate prima e poi parlerete è forse un piccione questo questa è un'aquila non un piccione un uomo alto e magro con fedine e baffi rasati all'apparenza un cameriere malato e ubriaco vende una cagnolina maltese dal pelo bianco come la neve la vecchia canetta guaisce la mia padrona mi ha ordinato di vendere questa porcheria dice il cameriere con un sorriso sprezzante ha fatto bancarotta alla vecchiaia non ha da mangiare si è messa a vendere cani e gatti piange li bacia sui musilerci ma li deve vendere per bisogno è la verità comprate signore comprate signori ci occorrono soldi per il caffè ma nessuno ride un ragazzetto gli sta accanto e socchiudendo un occhio lo guarda serio con aria di compassione più interessante di tutto il reparto dei pesci una decina di contadini stanno seduti in fila davanti ad ognuno di loro c'è un secchio e nei secchi c'è un piccolo inferno lì in un'acqua verdastra e torbida brulicano coracini cavidini avalnotti chiocciole ranocchi tritoni grossi scarabai di fiume con le zampe spezzate vanno su e giù per quell'angusta superficie arrampicandosi sulle carpe e scavalcando le ranocchie le rane si arrampicano sugli scarabè i tritoni sulle rane creature piene di vitalità le tinche verde scuro essendo i pesci più cari godono di privilegi vengono tenute in una vaschetta a parte dove non è possibile nuotare ma almeno non si sta tanto stretti pesce sopraffino la carpa carpe tenute in acqua che possano crepare potete tenerle in un secchio per un anno e sono sempre vive è già una settimana che ho preso questi pesci li ho pescati a greggio signore nella pererva e da là sono venuto a piedi le carpe a due copeche l'una le cavedini a tre e gli avannotti a dieci copeche la decina che possano crepare vi lascio gli avannotti per cinque copeche vermetti non ne volete il venditore ficca una mano nel secchio e con le sue rose e ruvide dita ne estrae teneri avannotti e una carpa grossa come un'unghia accanto ai secchi ci sono lenze ami canne e dei vermi di palude che prendono al sole riflessi rosso fuoco vicino ai carri con gli uccelli ai secchi con i pesci passa un vecchio amatore in berretto di pelo occhiali con la montatura in acciaio e soprascarpe di gomma simili a due corazzate è come lo chiamano qui un tipo non ha una sola copeca in tasca ma ciò nonostante mercanteggia si agita e assilla i compratori con i suoi consigli in un'oretta riesce a passare in rassegna tutte le lepri tutti i piccioni e i pesci ad esaminarli nei minimi particolari e quindi a stabilire per ognuna di queste bestie la specie l'età il prezzo cardellini carpe e avannotti lo attraggono come un bambino mettetevi a parlare con lui per esempio dei merli e quell'originale vi racconterà cose che non troverete nessun libro ve le racconterà con entusiasmo con passione e per giunta vi rimprovererà la vostra ignoranza sui cardellini e sui fringuelli è pronto a parlare all'infinito sbarrando gli occhi e agitando forte le braccia qui in piazza della pompa lo si può incontrare soltanto durante la stagione fredda l'estate invece lo passa non so dove fuori mosca ad esca le quaglie con richiamo e pesca con la lenza ed ecco un altro tipo un signore alto alto e magro magro con gli occhiali scuri sbarbato con in testa un berretto con la coccarda simile ad uno scrivano dei vecchi tempi è un amatore ha un grado elevato è insegnante di gennasio e ciò è noto agli assidui della pompa che lo trattano con rispetto lo accolgono con inchini e hanno perfino coniato per lui un titolo speciale vostro pronome al mercato della torre su ciareva fruga tra i libri e in quello di piazza della pompa cerca dei piccioni favorite gridano i venditori di colombi signor professore vostro pronome rivolgete la vostra attenzione ai torraiuoli vostro pronome vostro pronome gli gridano da varie parti vostro pronome ripete da qualche parte sul viale un ragazzetto e vostro pronome che evidentemente ha ormai fatto l'abitudine a questo titolo con aria seria severa prende nelle mani un piccione sollevandolo sopra la testa incomincia a esaminarlo e nel farciò si acciglia e si fa ancora più serio pare un cospiratore e la pompa questo pezzettino di mosca dove si amano così teneramente gli animali e dove tanto li si tormenta vive la sua piccola vita si agita e rumoreggia e gli uomini di affari e le persone devote che passano per il viale là davanti non capiscono perché si sia radunata quella folla di persone quella variopinta mescolanza di berretti di pelo di berretti con visiera e di cilindri che non comprendono di che cosa parlino lì in che cosa commercino è stato un po' di più